Musica 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 Matarocci a Stockholm Musica Io sono Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer e sono fiero e onorato di parlare dell'Ungheria che rappresenta per me specialmente il mio passato sportivo un qualche cosa di mondiale che questa nazione mi ha fatto imparare nella palla al mondo Calpati è stato ed è uno dei più grandi giocatori di palla a nuoto che si intende al mondo Mi chiedeva che non mi chiedeva perché non mi chiedeva ora o o o o o o o o o non mi chiedeva non mi chiedeva un attore perché faccio un attore o o o Ho inventato questo. Ho inventato questo. Non esiste normalmente. Che cosa su tua vita madre? Cosa ti spendi il tuo tempo con? Anche perché da bambino sono cresciuto un po'. No, adesso sto un po' attento agli anni. L'uomo si wake up early in the morning, every day, usually goes out in the morning and looks for his friends or goes to buy newspapers and so on. Then when he comes back, he likes a lot to play music and to compose his songs. Metti i fute denne se poi, alla due. Fute denne. Se ti hanno rubato il cuore, e sei moren d'amore. Perché se ne chiude cunata, e ti ha lasciato solo. Fute denne. Se da me fute denne. Fute denne. Se da me fute denne. E l'ho scritto a Cornella Manoni. When he was young, much before the career in the movies, he wrote songs for a famous Italian singer like Cornella Manoni and Nico Fidenco. He wrote the Italian version of Cleopatra. You know the movie Cleopatra? He wrote a song for the Italian version. He wrote a lot of songs when he was young. Put the denne. And the baby put the denne. And the kids got a lot more of that. Booo. Rabló támadáss. Kezeked fel. Jobb, ha te mondod. Te hangod mélyebb. Booo. Na. Booo. E' chiamato perché deve venire a mangiare gli spaghetti perché la moglie non lo fa mangiare. Perché Terence's wife non ha letto gli spaghettini, si è diventato fatti, sai? A volte stavamo insieme a una storia per sperare di fare un nuovo film o un film televisione, perché è molto talentoso, non lo dice a te, ma è molto talentoso in concept, ideas, racconta un po' la storia del nonno di Gesù. Una delle cose che mi piace fare nel futuro, se è possibile, è una storia che ha concezionato qualche anno fa, il grandfattere di Gesù, racconta la storia del piccolo Gesù e il grandfattere, e prima che Gesù capisce la sua natura di Gesù. Lo sa, lo sai perché? Perché il grande nonno che sarei io, prima che sarei il padre di Gesù, che è Dio. E quindi... Insomma, un po' un casino. Il diraiso è riparo andato, quando il grandfattere siannò il Dio di Gesù è il uccisamento, quedò un po' un po' imbastolo. Perché si sa che il compliments. Ci sono tanto possibili di nuovi progetti, chi ha in buona zona salute. Ma ci sta anche in grado alla situazione fisicamente, e infortunatamente il pubblico e i produttori vogliono fare la stessa cosa che ha fatto nei film famosi. Quando abbiamo fatto la produzione due anni fa, il produttore della televisione in Italia avevamo sempre detto ok, ma possiamo avere un po' di combattere? Possiamo avere scelte di action? E lui era già 82 anni. Quindi non è vero che un uomo 80 anni abbia giocato i bambini. Anche se fosse Blatt Penso. E guardo specchia E senti diventata vecchia Palla nupernacchia Rire, dire, dire Rire, dire, dire Rire, dire Futta tenna 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 Futta tenna